Musica Le 18.31, buonasera e benvenuti al TG2000 Lenzuola nere per coprire i finestrini e benzina L'autista di origini senegalesi che ieri a Crema ha sequestrato 51 ragazzi di una scuola media Dando fuoco al bus che guidava, aveva scusate, premeditato tutto Sentiamo Marco Bergamaschi E nel reparto protetti del carcere di San Vittore, U6 Nussi L'uomo che ieri ha dirottato un autobus con 51 alunni di Crema e dato fuoco al mezzo L'ho fatto perché gli africani restino in Africa e non ci siano morti in mare, avrebbe detto Aggiungendo di voler usare i bimbi come scudo per prendere un aereo e non voler far loro alcun male Il legale ha chiesto la perizia psichiatrica Le accuse sono di sequestro di persone starci con l'aggravante del terrorismo Un atto premeditato per gli inquirenti che cercano anche un video inviato in Senegal in preparazione del gesto Sicuramente premeditato perché comunque ha comprato delle fascette d'elettricista con cui ha legato i bambini Ha comprato una tannica di benzina con cui ha cosparso l'autobus Aveva un accendino, aveva già un suo percorso, aveva un obiettivo perché voleva arrivare a Linate E in un video diffuso poco fa dai carabinieri si vede l'indagato mentre riempie le tanniche di benzina presso un distributore di Madignano Questa è la drammatica telefonata di un ragazzo alla mamma, un altro chiesto aiuto via telefono I carabinieri hanno bloccato il bus e iniziato a far scendere i bambini mentre l'uomo appiccava il fuoco L'autista a due precedenti non a conoscenza dell'azienda di trasporti per nascondere la patente sospesa per guida in stato di ebrezza Si diede malato, nel 2018 è poi stato condannato in via definitiva per moleste su un minore Ma le comunicazioni obbligatorie delle aziende scattano quando si tratta di pubblici ufficiali Il primo ad avvertire i carabinieri è stato un ragazzino tredicenne nato in Italia ma di origini egiziane Con Luciano Piscali ascoltiamo la sua voce e quelle dei carabinieri che hanno salvato i bambini e catturato l'autista Se 51 ragazzini ieri sono tornati a casa sani e salvi lo si deve a lui, alla sua presenza di spirito e al suo coraggio Si chiama Seala Rami, ha 14 anni ed è stato lui a telefonare di nascosto dall'interno del pullman al padre e ai carabinieri permettendo loro di intervenire Ho chiamato prima la polizia, dopo mio papà che lui ha chiamato la polizia dei carabinieri Dopo ho continuato a chiamare polizia dei carabinieri, polizia dei carabinieri finché non sono arrivati Una volta allertati i carabinieri hanno individuato l'autobus in fuga verso Linate e lo hanno fermato Sono seguiti minuti concitati Abbiamo infranto i vetri, aperto la porta posteriore e fatto discendere tutti gli alunni Particolarmente una bambina, mentre l'aiutavo a rialzarsi era lì che mi guardava con gli occhi pieni di gratitudine ma nel contempo davvero terrorizzati Lui si è accorto che i bambini stavano scendendo e ha dato fuoco al pullman Quindi abbiamo velocizzato immediatamente le operazioni per far uscire tutti i bambini dall'autobus E ci siamo recati poi verso di lui, l'abbiamo estratto dall'autobus, l'abbiamo messo a terra, ammanettato e portato fuori dalla zona di pericolo Il sequestratore ora è in carcere, mentre il giovanissimo Rami, nato a Milano ma di origini egiziane Adesso spera di ottenere con la sua famiglia la cittadinanza italiana In una Roma blindata è arrivato il capo di stato cinese Xi Jinping Domani per lui l'incontro con Mattarella E sabato quello con Conte e la firma del memorandum sulla cosiddetta nuova via della seta Maurizio Dischino Italia e Cina si incontrano a Roma per rinnovare la cooperazione con un accordo chiamato nuova via della seta Per siglare l'ingresso dell'Italia in questo partenariato verrà il presidente cinese Xi Jinping Atteso intorno alle 19 all'aeroporto di Fiumicino Con il leader cinese da Pechino si sono mosse circa 200 persone Molte delle quali avranno interesse ad investire in Italia nelle infrastrutture, nella tecnologia, nel commercio, nella cultura, nella finanza e nei macchinari Ma soprattutto nel made in Italy Divenuto sinonimo di prodotti di alta qualità come ha dichiarato Xi Jinping Il viaggio nel nostro paese entrerà nel vivo domani mattina al Quirinale dove sarà ricevuto da presidente Sergio Mattarella Il quale ha rassicurato che l'Italia tutelerà la sicurezza degli investimenti L'intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare allo stesso tempo attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile In cui i soggetti economici dei due paesi possano agire in maniera equivalente, reciprocamente libera ed equilibrata Sempre domani mattina in una Roma blindata con 3.500 persone impiegate nella sicurezza Xi Jinping sarà l'altare della patria Nel pomeriggio incontrerà i presidenti del Senato e della Camera e poi visiterà il Colosseo Sabato mattina a Villa Madama il premier Giuseppe Conte e Xi Jinping firmeranno un memorandum che farà entrare l'Italia nella nuova via della seta Sabato pomeriggio il presidente cinese andrà a Palermo e poi lascerà l'Italia per andare al Principato di Monaco in Francia Era Padova oggi la piazza principale della 24esima giornata delle memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie Dal palco l'invito di Don Luigi Ciotti ad alzare la voce contro le infiltrazioni criminali In testa ci sono i familiari delle vittime, hanno con loro le foto dei padri, dei fratelli, dei figli uccisi dalla criminalità organizzata Sono 1111, almeno quelli di cui si conosce la storia e di cui si possono ricordare i nomi Alessandro Ferrari, Anna Maria Tordo Palmina Scamardella È qui nel ricco nord-est, dove da tempo le mafie hanno esteso i loro affari, che l'Associazione Libera ha deciso di portare la 24esima giornata della memoria e dell'impegno E decine di migliaia di persone, soprattutto ragazzi, hanno sfilato questa mattina per le vie della città Liberare la società dalle mafie è un traguardo doveroso e possibile, ha scritto in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella Ma, dice il presidente di Libera Don Luigi Ciotti, serve che i cittadini si assumano la loro parte di responsabilità E che la politica dia agli strumenti leggi più forti e categoriche Le leggi devono tutelare i diritti, non il potere Le leggi devono promuovere la giustizia sociale, non le disuguaglianze Il nemico non sono i migranti, sono le mafie, la corruzione, l'usura, la mancanza del lavoro, le povertà C'è un dato, infine, che rende quanto mai attuale questa giornata della memoria L'80% dei familiari delle vittime innocenti di mafie non conosce ancora la verità o la conosce, ma solo in parte Si è avvalso della facoltà di non rispondere e di fronte al giudice nel carcere di Regina Celi Marcello De Vito, ormai ex pentastellato presidente del Consiglio Comunale Capitolino Accusato di corruzione per la vicenda del nuovo stadio della Roma Oggi la novità di un altro indagato eccellente Si tratta di Paolo Frongia, assessore allo sport del Campidoglio Sentiamo Caterina Dall'Olli Chiarirò tutto, sono sereno, anche se molto dispiaciuto per quanto sta succedendo Sono le parole che Marcello De Vito, al termine dell'interrogatorio di garanzia, ha riferito al suo nuovo legale Angelo Di Lorenzo, che ha incontrato a Regina Celi Ho chiesto a De Vito di riflettere e di avvalersi della facoltà di non rispondere per adesso De Vito quindi chiederà di essere ascoltato nei prossimi giorni per chiarire la sua posizione Invece, davanti alla giudice per le indagini preliminari, oggi ha parlato un altro dei quattro indagati Camillo Mezzacapo, avvocato già socio di De Vito, accusato di essere il tramite Grazie alla società di consulenza intestata a lui, la MDLSRL Fra il politico e gli imprenditori che gli avrebbero versato, secondo la procura, fino a 400.000 euro di tangenti Nessuna corruzione, solo compensi per attività professionali Questa è la linea di difesa spiegata dall'avvocato difensore di Mezzacapo Che annuncia il ricorso al Tribunale del Riesa Ha svolto solo attività professionali che nulla avevano a che fare con il ruolo politico del De Vito Secondo l'accusa, De Vito avrebbe svenduto la sua funzione di pubblico ufficiale a tre gruppi imprenditoriali Parnasi, Toti e Statuto, mettendosi a disposizione per agevolare progetti come quello del nuovo stadio della Roma e degli ex mercati generali E proprio a proposito dello stadio, l'ultimo indagato è l'assessore Daniele Frongia, fedelissimo della sindaca Raggi Ora in Sicilia per un blitz dei carabinieri contro una loggia massonica segreta a Castelvetrano, in provincia di Trapani Paese natale del boss superlatitante Matteo Messina Denaro 27 persone sono finite in manette e reati contro la pubblica amministrazione e associazione a delinquere segreta I capi d'accusa tra gli arrestati, nomi di spicco come l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Francesco Cascio L'ex deputato regionale di Forza Italia Giovanni Losciuto e l'ex sindaco di Castelvetrano Felice Errante Secondo gli inquirenti il sistema messo in piedi condizionava pesantemente la vita politica Adesso ci spostiamo a Napoli dove la Guardia di Finanza ha scoperto un ingegnoso sistema usato dai casalesi Per convertire un miliardo circa di vecchie lire in euro Luigi Faraiolo È proprio vero che ne sanno una più del diavolo i casalesi E questa volta avevano inventato il modo per trasformare le liri in euro, geni del male Cioè avevano un tesoro di circa 20 miliardi di vecchie lire messo da parte in tempi non sospetti Frutto delle attività criminali che convertivano in piccole tranci in euro Il meccanismo permetteva di guadagnare circa un terzo della cifra consegnata alla Banca d'Italia Eliminate le spese Quindi avrebbero potuto incassare con questo trucco circa 3 milioni di euro su 20 miliardi messi da parte Il nucleo valutario della Guardia di Finanza che ha scoperto il marchigegno Insieme con la procura di Aversa ha sequestrato oltre un miliardo di vecchie lire in contanti E ha arrestato quattro persone tra Napoli e Caserta Il modo superante è molto semplice, di solito abbiamo due gruppi di persone Uno riconducibile al proprietario delle lire e l'altro al proprietario degli euro Che dopo una serie di incontri serrati, di trattative, di telefonate Stabiliscono il valore della conversione Un valore che può oscillare tra se conto una tariffa variabile Tra il 35 e il 42% del valore originale Quindi questo significa che se io avevo 200 mila lire da convertire Mi venivano riconosciuti tra i 35 e i 42 euro Il sistema era basato su un meccanismo apparentemente perfettamente legale Inserirsi nelle vecchie prenotazioni alla Banca d'Italia per convertire le lire in euro Utilizzando documenti falsi Hanno anche fatto incetta di vecchie lire Coprendo l'operazione come una normale vendita di valuta storica In uno dei casi la conversione si sarebbe dovuta concludere addirittura in una banca svizzera Ora la pagina politica Ieri si è salvato Salvini Oggi il ministro delle infrastrutture Toninelli Che esce indenne dalla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni Intanto la Camera ha approvato la fiducia al decretone Che introduce il reddito di cittadinanza e quota 100 Sentiamo Augusto Cantelmi Dopo il voto su Salvini, oggi quello su Toninelli E anche in questo caso l'Aula si pronuncia contro le due mozioni di sfiducia Nei confronti del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Presentate da Forza Italia e Partito Democratico sull'alta velocità Torino-Lione Ma sono orgoglioso di quello che ho realizzato come ministro E che abbiamo portato avanti come governo E rifarei tutto, tutto senza esitazioni Maggioranza compatta anche alla Camera dove ottenuta la fiducia incassa il voto finale Sul decretone contenente il reddito di cittadinanza e quota 100 Mentre persistono le divisioni nel governo sullo sblocca cantieri Nonostante il via libera parziale del consiglio dei ministri di Ieri La mediazione è stata già fatta ieri Adesso è dato soltanto di curare alcuni dettagli tecnici E ci siamo presi qualche giorno per rifinirlo Divisioni che riguardano anche la TAV E domani è previsto un incontro a Bruxelles tra Conte e Macron Ma quello di oggi è il giorno della bandiera d'Europa Dopo l'appello dell'ex presidente della Commissione Prodi Di appendere il vessillo dell'Unione nelle finestre Per ricordare che solo uniti si può sopravvivere Adesso con Beatrice Bossi vediamo meglio le misure contenute nel decretone Che oggi ha passato il vaglio della Camera Era fine gennaio quando in soli 20 minuti Il consiglio dei ministri approvava la prima bozza del decretone Da quel giorno tra le pagine del testo sono comparse numerose novità Eccone qui alcune Per chi riceve il reddito di cittadinanza L'obbligo di accettare un'offerta congrua Scatterà solo se il salario supererà i 780 euro Ossia il 10% in più del beneficio massimo I genitori dei minorenni saranno obbligati inoltre Ad accettare un'offerta di lavoro solo entro 250 chilometri dalla residenza Non più in tutta Italia quindi anche in caso di terza offerta Un occhio di riguardo anche per le famiglie con disabili Che ritoccando le scale di equivalenza Potranno ricevere adesso fino a 50 euro in più al mese Niente benefici invece per latitanti e carcerati Ma neanche, e questa è la novità, per indagati ed imputati Stretta poi sulle coppie di furbetti e sui genitori single Per contrastare i falsi divorzi messi in atto Per rientrare nei parametri dei beneficiari del reddito Per non inciampare sullo stop del garante della privacy Infine il governo ha deciso di non monitorare le spese effettuate con la carta Pensioni e reddito di cittadinanza quindi Potranno essere ritirate anche in contanti alla posta o alla banca Cambiamenti anche nel capitolo quota 100 Per i dipendenti pubblici l'anticipo del TFR sale da 30 a 45 mila euro Via libera infine all'emendamento sul riscatto della laurea Anche gli ultra 45 anni potranno usufruire delle agevolazioni Ma la detrazione del 50% scatterà comunque solo dal 1996 E in arrivo la cosiddetta portabilità della targa Quando si cambia un'automobile L'annuncio del ministro delle infrastrutture Danilo Tolinelli Arriva in aula al Senato Quella delle targhe destinate a seguire il proprietario e non il veicolo È in realtà una norma del 2010 rimasta però inapplicata Per la mancanza dei regolamenti attuativi E cambiamo argomento andiamo all'estero Finalmente una buona notizia arriva dal Nicaragua Dopo un anno di scontri il governo ha annunciato che libererà tutti i prigionieri Politici Marco Burin Liberi tutti E parliamo di oltre 700 persone Arrestate per aver protestato fino all'altro giorno Contro il regime di Danilo Ortega Che oggi cambia linea Dopo essersi arroccato fin troppo a lungo E aver ordinato la polizia di sparare sui manifestanti Più di 300 morti in un anno Finalmente i negoziati danno frutto Grazie alla mediazione della Chiesa che ha sempre scommesso sul dialogo Ieri governo e opposizioni hanno firmato un documento In cui si annuncia la ripresa del negoziato E si conferma la volontà del governo di liberare entro tre mesi Tutti i prigionieri politici Cioè le persone arrestate a partire dal 18 aprile scorso Quando scoppiò la rivolta popolare contro Ortega Il leader sandinista Sempre più autoritario e paranoico dopo 40 anni al potere Finalmente ha ceduto alla pressione internazionale e interna L'organizzazione degli stati americani Aveva chiesto il rilascio dei prigionieri Per tornare al tavolo dei negoziati Al quale è stata invitata anche la Croce Rossa Un ruolo decisivo l'ha avuto il nunzio Valdemar Somertag Che nei giorni scorsi si è difeso dall'accusa di essere di parte Non sono neutrale Non posso essere neutrale di fronte alla sofferenza di un popolo Ma sono imparziale Questo sì Ha assicurato Somertag Che ha il sostegno dei vescovi locali A partire da quello di Managua Il cardinal Brenes da tempo insiste per una riforma elettorale Che porti a elezioni libere e trasparenti Il documento di ieri parla anche di questo Forse anche in Nicaragua è possibile una transizione democratica Non violenta Sono almeno 300 Secondo l'ultimo bilancio le vittime accertate del ciclone Idai Che ha colpito la scorsa settimana l'Africa australe Piogge torrenziali e vento fortissimo Hanno provocato l'esondazione di diversi fiumi che hanno sommerso vaste aree Le operazioni di soccorso proseguono per tentare di salvare migliaia di persone Ancora rifugiate sugli alberi, sui tetti delle case Ma le strade interrotte, i ponti distrutti e il blackout elettrico Rendono difficile raggiungere le aree interessate In Mozambico, il paese più colpito, il presidente ha confermato già più di 200 morti Ma il bilancio è provvisorio, si temono oltre mille vittime Simile situazione anche nel vicino Zimbabwe e nel Malawi In Iraq sono diventate almeno 72 le vittime dell'incidente a Mosul Sul fiume Tigri in cui un traghetto si è ribaltato Secondo la TV Al Jazeera a bordo c'erano almeno 200 persone Per la maggior parte famiglie con bambini Ma il natante poteva portare massimo 50 persone Resta sotto sequestro la nave Ionio della ONG Mediterranea Arrivata martedì scorso nel porto di Lampedusa Con una cinquantina di migranti a bordo Dopo i sbarcati indagato il comandante per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Fabio Bozzetta È indagato con l'accusa di favoreggiamento e di mancato rispetto di fronte all'ordine delle autorità italiane Di spegnere motori mentre l'imbarcazione si trovava in acque territoriali Sotto accusa Pietro Marrone, il comandante della nave Mar Ionio Battente bandiera italiana della ONG Mediterranea Save the Humans Interrogato oggi dalla procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella E dal pubblico ministero Cecilia Bravelli Rimorciatore Mare Ionio, rimorciatore Mare Ionio Da fatturatore guardia di finanza Paolini Intimiamo l'alto, arrestate le macchine, ripeto Intimiamo l'alto, fermate i motori Non ha obbedito lunedì sera all'alto impostogli dalla guardia di finanza Attraccando al porto di Lampedusa Marrone, con a bordo 49 migranti soccorsi Di cui 15 minori provenienti dalla Libia Ha spiegato che le condizioni meteorologiche erano avverse E a motore spento avrebbe rischiato di naufragare Mi sono limitato a salvare vite umane, rifarei la stessa cosa Aveva ribadito i cronisti Mentre il rimorciatore risulta ancora sotto sequestro I pedofili, i pedopornografi e gli abusatori di minori nel 2018 Sono ancora più organizzati e strutturati a livello criminale La denuncia arriva da Metter L'associazione di Don Fortunato di Noto Che oggi a Pachino e in Sicilia Ha presentato il suo annuale rapporto Lo sentiamo Francesco Durante Oltre 3 milioni di foto Più di 1 milione e 100 mila video Materiali prodotti, diffusi e scambiati sul web Anche in modo veloce e spesso anonimo I pedofili della rete preferiscono soprattutto bambini Fra gli 8 e 12 anni Seguiti da quelli fra i 3 e i 7 Ma non manca l'attenzione per i piccolissimi Dai neonati fino ai 2 anni I numeri rappresentano il dramma Del coinvolgimento dei bambini Che già sono stati abusati Evidentemente il mercato della pedopornografia Molto ormai strutturato Anche a livello criminale Forse questo non vuole che qualcuno lo senta Ma è così Il monitoraggio della rete compiuto da Metter Rivela un aumento delle preferenze Per i bambini di sesso maschile Rispetto alle bambine in posizione stabile In tanti domini viene trafficato materiale Pedopornografico che il report definisce indicibile e vergognoso Milioni di piccoli abusati In un intreccio di interessi economici trasversali Mentre si assiste al tentativo di normalizzazione della pedofilia online Con un'attività di contrasto ancora troppo debole Non tutte le polizie Non tutti gli stati intervengono nel giusto modo Ad esclusione in Italia della polizia postale Che fa un lavoro egregio C'è una trasnazionalità delle attività delittuose sul web Che richiama una necessaria e immediata collaborazione Tra le varie polizie del mondo Ha voluto parlare totalmente a braccio Papa Francesco Ai componenti scusate della Federazione Italiana Medici pediatrici ricevuti in Vaticano Il pontefice ha parlato di una sanità più solidale ed inclusiva Considerando che sempre più spesso Ha detto Francesco La prevenzione e le cure diventano appannaggio Di chi gode di un certo tenore di vita E oggi giornata mondiale della sindrome di Down Avere un cromosoma in più diminuisce l'aspettativa di vita Ma dal Gemelli di Roma arriva una nuova speranza Come ci spiega Nicola Ferrante Nel 1979 molti bambini con sindrome di Down erano in istituto Una speranza in più per le persone con sindrome di Down Di cui oggi ricorre la giornata E il risultato di un recente studio del Policlinico Gemelli Come noto la Trisomia 21 dal nome di quel cromosoma in più Presente in triplice anziché in duplice copia Provoca invecchiamento precoce Lo studio dell'Università Cattolica dimostra Che la muscolatura nelle persone con sindrome di Down Perde di tono col passare dell'età Proprio come per gli anziani Un intervento combinato di esercizio fisico In particolare contro resistenza E un apporto proteico adeguato Superiore rispetto alle attuali raccomandazioni Potrebbe essere efficace Lo studio condotto su 105 giovani Down Non ancora quarantenni Sta dimostrando che curare precocemente già da bambini Esercizio fisico e alimentazione Può dare una marcia in più come spiega il geriatra Quello che noi ci attendiamo È una riduzione dei tassi di disabilità fisica Nella popolazione con sindrome di Down Quindi con un evidente impatto positivo Sulla qualità di vita della persona E delle persone che lo accudiscono Nel 1981 da poco i bambini con sindrome di Down Potevano frequentare la scuola dell'obbligo Oggi frequentano le scuole dall'asilo nido all'università E tutti vanno a scuola Grave lutto nel mondo religioso Si è spenta questa mattina A 87 anni Madre Anna Maria Canopi Badessa emerita del monastero dell'isola di San Giulio È stata una figura importante all'interno della chiesa italiana E tra le poche donne ad aver scritto le riflessioni ad un papa A Giovanni Paolo II per una via crucis al Colosseo Particolarmente addolorato dalla notizia Il vescovo di Novara e vicepresidente della CEI Franco Giulio Brambilla E nel post di questa sera Tra pochi minuti vi trasmetteremo Un estratto di un'intervista della badessa emerita Del monastero di San Giulio all'isola d'Orta Anna Maria Canopi Oggi come avete sentito scomparsa Intervista rilasciata La trasmissione di TV2000 I passi del silenzio Realizzata da Marina Pizzi L'intera puntata sarà poi trasmessa Questa sera alle 23 Vi ricordo l'appuntamento dopo il post Con attenti al lupo Il nostro TG torna alle 20.30 Grazie per averci seguito Arrivederci